Due giornate per ripulire la città e le strade, ma anche per parlare di rifiuti, del contrasto al loro abbandono e ancora di raccolta differenziata. Caltanissetta sarà tra i 12 comuni siciliani coinvolti dalla carovana dell'economia circolare di Lega Ambiente. In piazza Garibaldi il 30 settembre ci saranno tre aree, quella del dibattito, del baratto e del riciclo. Rispettivamente per discutere e affrontare le questioni legate al mondo dei rifiuti, portare materiali valorizzabili come carta, cartone, vetro e scambiarli con altri prodotti riutilizzabili e verdi. E infine dare una nuova vita ai materiali di scarto, realizzando nuovi oggetti nei laboratori con gli alunni della scuola primaria. È un'iniziativa di Lega Ambiente Nazionale e Lega Ambiente Sicilia e si uniscono due attività. Una è la carovana dell'economia circolare, che è prevista giorno 30 settembre in piazza Garibaldi. E poi c'è Puliamo il Mondo, che per noi a livello nazionale fa 30 anni, è la trentesima edizione, e la faremo sia venerdì sia domenica. Le attività sono queste, in piazza Garibaldi arriverà un nostro camper, tutta piazza Garibaldi sarà divisa in tre aree. Un'area dove sarà montato il camper, ci sarà un'area di dibattito dove intervengono il sindaco di Caltenissetta, il sindaco di Mussomeli che è presidente della SRRR, la DASI, c'è alcuni attori per parlare di come migliorare la qualità della raccolta differenziata, di come andare verso la tariffazione puntuale, di come contrastare l'abbandono dei rifiuti nelle strade. Poi c'è un'area in cui ci saranno i laboratori creativi, dei nostri volontari, e un'altra area dove ci sarà l'ecomobile, l'isola ecologica della DASI. La invitiamo i cittadini a portare la raccolta differenziata, noi la valorizzeremo barattandola con degli alberelli che hanno messo a disposizione sia l'azienda delle foreste demaniali che l'ispettorato ripartimentale delle foreste. Con l'iniziativa Puliamo il Mondo, invece, anche le scuole secondarie saranno protagoniste, occupandosi della pulizia di alcune aree della città, come il quartiere Provvidenza o Piazza della Repubblica. Domenica 2 ottobre, invece, la pulizia riguarderà alcune aree di sosta sulla strada statale 640 e una sulla strada provinciale 2, con il coinvolgimento degli adulti e la collaborazione di enti e istituzioni, come il Comune, il Libero Consorzio Comunale, ma anche, ad esempio, l'ANAS. I cittadini vogliono anche presenza, organizzazione, coerenza e poi i cittadini vanno educati, però se uno mantiene sporco i cittadini si sentono quasi sbagliando, autorizzati a sporcare ancora di più. Chi sporca va punito, va convinto a non fare quel gesto, ma questa non deve essere la scusa per lasciare le strade trafficate da turisti piene di immondizia, è una cosa che non si può vedere, solamente il 2% dei turisti che vengono in Sicilia ritornano, il resto non torna più. Noi parliamo di turismo, ma dobbiamo rendere appetibile la nostra isola, è molto piena di beni culturali e ambientali, ma anche il decoro è una cosa fondamentale per attrarre i turisti. Noi parliamo di turisti.